Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Considerando che in una dieta equilibrata sarebbe preferibile evitare un consumo eccessivo di zuccheri, quindi merendine, dolci, carboidrati in generale in grandi quantità, soprattutto andrebbero evitati tutti quei prodotti industriali come merendine, cioccolata, caramelle, torte già pronte, eccetera, perché sono veramente dannose per la nostra salute. Non solo per chi ha problemi e deve stare attento alla glicemia, come per esempio le persone diabetiche oppure con insulino resistenza, ma anche per tutte quelle persone che semplicemente vogliono stare attenti alla linea e non vogliono assumere zuccheri in eccesso. Quindi che cosa succede? Che o evitiamo di consumare questi cibi assolutamente, o altrimenti cerchiamo sul mercato qualche cibo senza zucchero che magari ci possa togliere ogni tanto quella voglia di dolce che magari abbiamo, senza però consumare zuccheri. Quindi che cosa ho fatto? Mi sono messa all'attenta ricerca di prodotti che troviamo nei supermercati o anche su internet che mi possano togliere quella voglia di dolce ma che non aggiungano zuccheri alla mia dieta. Quindi adesso di seguito vi mostrerò una serie di prodotti che ho trovato sia al supermercato che online, che ho acquistato e che ho provato per voi. Incominciamo dalla colazione. Ho scelto e ho trovato al supermercato questi cereali di Kellogg, di cui esiste anche la versione con una pezzi di cioccolato. Io l'ho preso con la frutta secca. È molto simile alla granola tradizionale, tranne che per il sapore. Infatti il sapore non è assolutamente dolce, si sentono i cereali e quindi potrebbe non venire apprezzato dalle persone che amano un gusto dolce. Ma per questo niente paura, perché basterà aggiungere del dolcificante al vostro latte e avrete risolto il problema in questo modo. Io li consiglio soprattutto a chi ci tiene ad una colazione sana. Poi ho trovato anche queste cioccofrolle del mulino bianco. Anche queste sono senza zuccheri aggiunti. E sono dei biscotti con gocce di cioccolato. Per quanto mi riguarda, questi biscotti non mi sono piaciuti. Però ho visto che mio marito li mangia volentieri e così anche i miei figli. In realtà c'è qualcosa all'interno di questi biscotti che a me personalmente fa star male. Inoltre mi lasciano una strana sensazione in bocca che permane anche dopo aver lavato i denti. Un prodotto che non ho trovato al supermercato ma online sono i buoni così di galbusera. Si tratta di wafer che sono bigusto. Un wafer alla vaniglia e un wafer al cioccolato. Il wafer alla vaniglia è molto dolce, mentre quello al cioccolato è molto amaro. Perciò io vi consiglio di mangiarli insieme. Insieme hanno un buon sapore, sono piaciuti a tutti. Tant'è vero che la confezione è migliorata un giorno solamente. Un altro prodotto che ho trovato sono queste fette biscottate di misura, anch'esse senza zuccheri aggiunti. Sono identiche esteriormente alle fette biscottate classiche, ma come gusto non ci siamo assolutamente. Non è vero che hanno il sapore del pane tostato così come è riportato sulla confezione, ma a mio parere hanno un gusto poco piacevole. Infatti non riesco a mangiarle da sole, ma devo spalmarci una confettura senza zucchero, che tra l'altro ho fatto io, in modo da poterle mangiare, perché altrimenti da sole sono veramente qualcosa di immangiabile. Se non vi importa del gusto e ci tenete solamente la linea a mangiare prodotti senza zucchero, potete acquistarli tranquillamente. Ma se ci tenete al gusto, ve le sconsiglio. Se voi conoscete qualche altro brand che fa fette biscottate senza zucchero e sono buone, fatemelo sapere. Una piacevole scoperta invece sono stati i buoni così di galbusera. Sono dei biscottini con all'interno della crema, ideali per la merenda. All'interno ci sono quattro biscottini e sono in formato perfetto per la merenda di scuola dei bambini. Infatti mio figlio se li ha mangiati tutti. Ciò che mi è piaciuto è che sono intanto dei biscotti piccoli, quindi sono perfetti per una porzione. Si possono utilizzare come colazione, come spuntino, ovviamente non tutti i giorni, nonostante non contengano zuccheri aggiunti, però comunque una volta di tanto ci può stare. Sono dolci ma non sono stucchevoli e possono sostituire tranquillamente i biscottini che solitamente mangiano i bambini senza avere tutto con l'eccesso di zucchero. Un altro prodotto per la colazione che ho trovato invece di Eurospin sono questi croissant senza zuccheri aggiunti vuoti. Questi li potete mangiare così hanno un gusto veramente piacevole oppure potete aggiungerci della crema spalmabile o della confettura senza zuccheri ovviamente. Sono anche abbastanza morbidi rispetto ad altri che magari si trovano in commercio che sono molto più secchi e devo dire che anche inzuppati rimangono molto buoni. Tenete presente che trattandosi in ogni caso di prodotti industriali vanno consumati con moderazione. Un prodotto che non conoscevo era questo, brioche senza zucchero, SZ appunto sta per senza zucchero, che ho trovato su Amazon. Sono delle merendine al cioccolato su cui avevo molte aspettative. pensavo di trovarle molto piene di cioccolato, molto morbide, stile classiche merendine del mulino bianco per intenderci. La crema ha un gusto alla nocciola veramente molto piacevole, ma la merendina in sé è secchissima, la merendina è immangiabile. Per poterla mangiare e avere un pochino di gusto in più, io vi consiglio di pucciarla nel latte oppure nel tè. Diversamente non riuscirete a mangiarla perché è veramente troppo secca. La crema è l'unica nota positiva perché è veramente piacevole da mangiare. È dolce ma non stucchevole, ma in ogni caso dovrebbero cambiare l'impasto. Bene ragazzi, questi sono stati tutti i prodotti che io ho provato per voi. Fatemi sapere se già li conoscevate o se ne avete qualcuno da consigliarmi. Lasciatemi pure un commento qua sotto. Io vi ringrazio di avermi guardata, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!